Mister Centamore che ha provato in tutti i modi con le varie varianti tattiche nel corso della gara di far suo la partita dopo il rigore fallito dal capitano è uscita fuori una protezza del bomber rosso-blu Sì, lei ha detto giusto, la partita era bloccata quindi bisognava sfruttare l'occasione loro l'hanno avuta e l'hanno sfruttata e la differenza è stata proprio questa noi l'abbiamo avuta e l'abbiamo fallita e quindi la squadra forse loro si sono espressi al 100% noi forse un po' meno ma non eravamo abituati a giocare in questo campo e quindi l'abbiamo un po' pagato sul versante della manovra loro erano determinati, sapevano come giocare, come saltare questo problema della palla a terra però sono stati bravi onestamente, l'hanno meritata L'Atletico Avola è una squadra che partita dopo partita sta esprimendo un calcio spomeggiante con un due d'attacco temibilissimo per tutte le diverse avversarie ma cosa maggiormente l'ha colpito quest'oggi? Forse la massiccia presenza di pubblico in tribuna o un avversario veramente forte che può dire la sua nel proseguo del torneo regionale? No, sorpreso no perché Avola è un paese di grande tradizione calcistica e quindi immaginavamo che trovavamo questo ambiente perché hanno fatto sempre categorie importanti quindi non mi sorprendeva La squadra è sorprendente perché è una squadra con giusti valori tecnici però ha una determinazione nell'impostare il gioco, una velocità su lanci lunghi quindi sono anche un po' più grandetti e quindi fanno valere questa fisicità Il suo elemento di maggior spessore è il capitano Mazzamuto però è stato anche... lì sta nel mezzo tra la bravura del portiere e la... È sempre così, la verità sta nel mezzo e quindi è stato bravo il portiere è stato meno bravo il mio che non ha saputo decidere un angolo però ai rigori non si può fare colpa a nessuno perché chi li batte è solo un ragazzo coraggioso e basta quindi bravi loro, bravi tutti i ragazzi in fondo è una partita di sport, resta la delusione però è così, c'è una squadra che vince e una che perde l'importante è che l'hanno meritata e loro tutto sommato l'hanno meritata Grazie